Pranam Sadhguru, qual è l'importanza di dare un nome a un neonato in base all'ora e al luogo di nascita? L'alfabeto sanscrito deriva da una certa comprensione della creazione stessa. Perché la lingua non è stata creata per la comunicazione. La lingua non è una lingua inventata allo scopo della comunicazione. È una lingua che le persone hanno dedotto dall'esistenza. È una lingua che si è evoluta a partire dall'osservazione, non dall'immaginazione. In molti modi, i suoni che pronunci e le forme a cui ti riferisci con questi suoni sono connessi. Questo è ciò che significa un mantra. Un mantra significa un suono, un puro suono. Uno iantra significa una forma corrispondente. Per capire ciò, se conosci qualcosa di fisica, se almeno le superiori hai studiato fisica, sicuramente hai avuto almeno un capitolo, due pagine, sul suono. Se immetti un suono in un oscilloscopio, uno strumento che misura il suono, a seconda della sua frequenza, dell'ampiezza e altre dimensioni del suono, esso produrrà una forma specifica ogni volta. Quindi un suono ha una forma ad esso collegata. Similmente, una forma ha un suono collegato ad essa. Ora, quando nasce un bambino, a seconda della situazione geometrica del sistema sunare, esiste anche un modo di considerare l'universo più ampio, ma è troppo complesso. considerando almeno la situazione geometrica nel sistema sunare, le persone decidono che questo suono sarebbe il migliore per qualcuno che è nato a quell'ora di quel giorno. Questo ha una certa base scientifica, ma c'è un certo margine, perché l'alfabeto sanscrito possiede 54 alfabeti. Questi alfabeti possono essere suddivisi in alcune centinaia di suoni minori. È molto complesso dare un nome alle persone con questi suoni minori. Quando si tratta di rinominarli, se prendono il Brahmacharya o Sanyas, quando li rinominiamo facciamo un po' più di attenzione, non con la nascita, ma osservando certi aspetti di chi sono e come ricevono l'iniziazione. Di conseguenza aggiusteremo il nome così che è quel nome o quel suono corrisponda a ciò, non al significato. Il significato è rilevante, perché il significato lo puoi inventare. Ora dobbiamo dare un nome a tuo figlio in modo tale che ogni volta che chiami quel nome, qualcosa dentro di lui dovrebbe allentarsi. ma se lo chiami Anirud o andrà fuori dal paese o anche nel paese ora, se vai a Bangalore ti chiameranno Andy. Ok. Se lo chiami Jonak lo chiameranno Jack. Quindi non sappiamo come vogliono rinominarlo. Succederà. È importante in una certa misura se sei alla ricerca della liberazione. Il nome che pronunci, il suono che pronunci diventa importante. Perché nelle società indiane si dedicava molta più cura nel dare un nome a un bambino piuttosto che a una bambina. Perché non perché questo non è un pregiudizio sessista, perché devi vivere con quel tipo. La bambina è il problema di qualcun altro. perché lui ti starà intorno finché non morirai. Ora quando stai morendo se vuoi chiamare tuo figlio lo chiami Shiva bello. Se si chiama Sam che fare? Quindi i genitori sono preoccupati. Andremo avanti perché lui stesso potrebbe non usare il suo nome spesso. Ma noi dovremo pronunciare questo nome ancora e ancora. Cosa funziona per la geometria della famiglia? con una bambina non sanno come chiamarla perché ancora non sanno chi sposerà. Quindi di solito quando la ragazza si sposava erano soliti cambiare il nome al matrimonio. Lo sai questo? Fino a circa 25 anni fa per la maggior parte delle donne cambiavano il nome per il matrimonio guardando il nome del marito guardando le caratteristiche della sua qualsimoglia geometria celeste cambiavano il nome per adattarlo. Ora questo viene considerato spregiativo perché dovrei cambiare il mio nome. Non necessariamente perché ciò è avvenuto. Siccome ogni cosa è diventato sfruttamento per questo ci sarà resistenza per ogni cosa. Se viene gestito in modo appropriato tutti lo accetteranno quando non è gestito in un modo giusto e corretto allora diventa un problema. Quindi dare il nome al figlio maschio è sempre stato un processo importante perché devi vivere con quel tipo. Lui non di questi tempi vanno via va bene ma a quel tempo sarebbero stati con te fino alla tua morte. Quindi era importante che il nome che pronunciavi si adattasse all'equazione geometrica all'interno della famiglia. Grazie a tutti